Insieme con Libera abbiamo voluto creare questo appuntamento anche per rimarcare i contenuti delle due risoluzioni imposte in essere dal Consiglio regionale, che ponevano l'accento proprio sulla criticità della via del 2010 e dall'altro per quanto riguarda il piano di assetto naturalistico. L'appello di oggi è rivolto con la nostra diffida agli enti locali, in particolar modo il Comune di Avizzano e la Regione Abruzzo, affinché chiudano rapidamente questo piano che è atteso dal 99, ben oltre 15 anni. Ci riserviamo le azioni successive ma ci auguriamo che non siano necessarie perché è una questione anche di credibilità politica delle amministrazioni territoriali, porre in essere un piano di assetto naturalistico che è atteso, come dicevo prima, da oltre 15 anni. Tra l'altro parliamo di un impianto che vede fermamente contrario il territorio proprio per quanto riguarda la sua costruzione. Si tratta di un impianto che di fatto è insostenibile sia da un punto di vista economico, sociale che occupazionale. Ci troviamo di fronte a uno dei cosiddetti UFO, come definiti da D'Alfonso, una struttura che non ha ragion d'essere, che cozza prepotentemente contro le attività della riserva e come tale non dovrebbe essere nemmeno presa in considerazione, anche perché non risponde a nessuna esigenza territoriale. Abbiamo fatto questa azione congiunta, le cambiate soprattutto sul tema ambientale della riserva e noi più sull'aspetto criminale di tutta la vicenda. In realtà noi abbiamo presentato un esposto dell'unge in cui chiediamo alla magistratura di aprire un'inchiesta sul parere via originario da cui è partito un dottolider del progetto.